Grazie a tutti. Presente. Presente. La sai? La sai? Corrente. Presente. Burgio. Presente. Canale. Presente. Perisola. Presente. Corrente. Presente. Cucunato. Presente. De Iulis. Presente. De Vivo. Presente. Di Salvo. Presente. 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 Scusate. Solo che la camera è spenta, ma se no non funzionerà l'audio. Esca. Presente. Gagliardi. 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 Grazie. Marrocchini. Puro Pesce. Presente. Pasetti. 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 Presente. Turbini. Presente. Sotillo. Presente. Baccari. Presente. Presente. Ecchio. Presente. Allora, faccio una seconda chiama per Bellassai. Puro Puri. Sotillo. Gagliardi. Presente. E Marrocchini. allora, i consigli risultati sono 23. Ok, perfetto. Allora, per caso li recuperiamo. Scusate, signor Presidente, vorrei solo dire che attento a me c'è il direttore ai raghi, che è in sostenizione del direttore Costella oggi. Benvenuto. Benvenuto. C'era già prima, però... Non c'era... Allora, ben trovato. Sì, sì. Grazie. Ben trovato. Se entrano i consiglieri, se qualcuno li sta contattando magari i capigruppo, i consiglieri a Marocchini, a Marocchini è un capogruppo, quindi i suoi componenti di gruppo informateli che appena entrano si palesassero per registrare la presenza. Allora, breve inciso sulla riunione che abbiamo fatto diciamo una capigruppo informale la questione è questa, o nello specifico sono queste riguardo all'emendamento all'ordine del giorno. Numero uno si apportano due modifiche che sono state richieste dagli uffici tecnici. Nello specifico la prima è riguardante una voce che viene scorporata e viene aggiunta al SAIC per più 25 mila euro la seconda è riguardante il passaggio dal titolo primo al titolo secondo delle spese originariamente di acquisto di servizi del verde che diventano invece c'è spese generali di manutenzione e recinzione altresì già assorbite in un'altra in un'altra voce di spesa nello specifico in un altro titolo per maggiori chiarimenti il consigliere Gagliardi sarà disponibile e sta vendendo a tutti voi il nuovo ordine del giorno numero uno quindi a breve lo riceverete magari riposiamo cinque minuti per dare contezza a tutti i consiglieri delle modifiche che sono state apportate e accettate da tutti i capigruppo quindi c'è questa ci sono modifiche prettamente tecniche secondo punto procedurale per la posizione delle firme procediamo in questo modo un relatore ha diritto a 10 minuti di illustrare l'ordine del giorno tutti gli altri che volessero intervenire hanno 3 minuti per dichiarare il proprio diritto di voto in merito all'indamento consigliere la cortesia ai gruppi coordinati sugli interventi di modo da contingentare i tempi chiaramente se c'è un intervento in distanza dal gruppo i consiglieri nello specifico rispetto al gruppo possono chiaramente intervenire per tutto contrario dopo che registrate tutte le richieste di voto tutti i consiglieri se vuoi il marchio di tastiera Luca scusami se ti interrompo non ti si sente bene perché c'è qualcuno che ha il microfono acceso e batte la tastiera del computer allora mi dice mi riapro ok sono tutti mutati perfetto allora ho spiegato diciamo le procedure nelle tempistiche siamo abbastanza flessibili nel senso cerchiamo di essere veloci che da tutti i gruppi di essere il più possibile veloci nelle procedure di voto e di diciamo di dibattere sugli ordini del giorno sugli emendamenti e di dichiarazione di voto a seguito di ciò apro una sessione prima del voto per alzata di mano cioè chiunque vuole apporre la firma alzi la mano faccio un riepilogo io delle mani alzate e abbassate tutte le mani se c'è un problema nell'alzata di mano cose simili aprite il microfono e dite guardate ho un problema nell'alzata di mano se ci sono dei consiglieri che per qualche motivo debbono andare via ma vogliono comunque sottoscrivere vogliono è rientrata la consiglia ma vogliono comunque sottoscrivere un atto oppure un ordine del giorno oppure non essendo presenti cortesemente scrivano in chat non sarò presente nella prossima ora ma ci terrei a sottoscrivere gli ordini del giorno 22 27 32 di modo che li registriamo anticipatamente e li andiamo a inserire per i consiglieri presenti vi chiedo di apporre firma voto per voto è tutto chiaro questo è ciò che ci siamo detti nella capigruppo informale che non verrà verbalizzata perché ci siamo messi d'accordo tutti noi capigruppo di lasciare al presidente una relazione di quello che si è detto aggiungo anche importante il consigliere Muro Pessa ha chiesto chiarimenti in merito alla sua vicenda alla vicenda dell'ordine del giorno se non erro numero 38 qualcosa di simile a firma a calenda consigliere Muro Pessa numero 31 grazie in merito al 31 che potrebbe essere potenzialmente assorbito dall'ordine del giorno 1 ci sono stati chiarimenti da parte del consigliere Gagliardi e nello specifico dalla maggioranza per cui quelle voci di spesa che sono riportate nell'ordine del giorno 1 comunque sono aperte al dibattito e c'è flessibilità sulle voci di spesa inserite stesse che andranno discusse con tutti i consiglieri su come indirizzare quelle spese e successivamente modificabili o integrabili secondo necessità anche in virtù diciamo della fase di assestamento successiva per cui ci saranno variazioni sulla spesa chiudo questo passaggio controllo Luca scusami ho visto adesso che sono arrivate le delibere di cui tu ci parlavi ma la delibera numero 1 non risulta variata consigliere Cagliardi no ma è variata e come perché sono cambiato però 2.25 sì scusate ho fatto un errore io il chiarimento è più che lecito allora appurato che è stato ricevuto l'ordine del giorno 1 ma l'ordine del giorno 1 è primo in votazione e onde evitare qualsiasi problema io direi che possiamo fare due cose consiglieri o ci fermiamo e riapriamo direttamente alle due e iniziamo a votare oppure iniziamo a votare e ci fermiamo all'una applicando però 5 minuti di pausa per leggere tutti l'ordine del giorno 1 aggiornato io sarei dell'idea che a questo punto potremmo andare in pausa e rivederci alle due puntuali tutti leggono per bene l'ordine del giorno numero 1 hanno un'ora e venti fanno le ultime verifiche su tutti gli ordini del giorno e quant'altro le ultime riflessioni tra i gruppi e dalle due rientriamo in aula e votiamo gli emendamenti e gli ordini del giorno ok va bene va bene va bene allora va bene va bene sospendiamo va benissimo va bene la seduta fino alle ore 14 riprendiamo alle ore 14 il punto qui a questo link e iniziamo immediatamente le procedure di voto grazie a dopo a dopo grazie quindi abbiamo detto ci vediamo alle due due precise giusto sì sì grazie 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 Grazie.